662 chilometri totali, quattro tappe, questa è la sfida del Giro di Sicilia che da Bagheria arriverà fino all'Etna in un percorso di ciclismo che anticipa il Giro d'Italia. La corsa partirà da Milazzo il 12 aprile e approderà sull'Etna il 15. Il ciclismo diventa ancora una volta strumento per la Sicilia per fare conoscere le bellezze della regione. Il percorso è adatto a velocisti, a finissere, a scalatori. La tappa più lunga è quella iniziale che va da Milazzo a Bagheria per ben 199 chilometri. La seconda invece prevede 152 chilometri e va da Palma di Montechiaro arrivando a Caltanissetta. Sarà una festa di colore perché chiaramente i giri ciclistici organizzati sempre da RCS hanno attorno una grande cornice di colore e di sport. Avremo anche il villaggio in via della Regina Margherita con l'area hospitality e tutto quello che c'è dentro il format di RCS. L'anno scorso ricordo che vinse lo squadro di Messina Vincenzo Nibali e quest'anno saranno anche altri grandi attori del ciclismo che poi battaglieranno due settimane dopo al Giro d'Italia 2022. Le ultime due tappe sono quella che va da Real Monte a Piazza Armerina per 171 chilometri e i 140 chilometri di percorso fra Aragalna e Piano Provenzana sull'Etna. Venerdì scorso la conferenza stampa di presentazione dell'evento dove anche il presidente della regione musumece ha sottolineato l'importanza di manifestazioni come questa che uniscono lo sport al turismo e alle bellezze territoriali che solo l'isola possiede.